MotoGP, Quartararo, parole forti su Yamaha. Per vincere bisogna usare. Cari appassionati di sport e amanti delle due ruote, benvenuti su The Sport News. Oggi abbiamo uno scoop esplosivo, direttamente dal mondo della MotoGP, che non potete perdere. Il nostro amatissimo Fabio Quartararo è pronto a mettere in discussione la sua stessa squadra e a scuotere il panorama delle corse su due ruote. Nella sua ultima dichiarazione a Silverstone, e il diablo Quartararo, ha fatto tremare i palazzi della Yamaha con parole audaci e un appello che non può passare inosservato. Ha lanciato un chiaro messaggio al team di Iwata. La Yamaha deve abbracciare il rischio se vuole competere nel futuro della MotoGP. Dopo una stagione che ha messo a nudo i limiti della Yamaha M1, Quartararo ha deciso di prendere il destino della sua carriera nelle sue mani. Il suo piano è chiaro, un test straordinario a Misano, subito dopo il Gran Premio di San Marino, dove il pilota si metterà alla prova con il prototipo della moto 2024. E non si tratta solo di un test, ma di un ultimatum alla Yamaha stessa. Quartararo ha dichiarato senza mezzi termini che questa sarà la moto al 95% che guiderà nella prossima stagione. È una prova di fiducia che pone la Yamaha di fronte a un bivio cruciale. Ma quali sono i dettagli scottanti di questa storia? Quartararo non ha esitato a confrontare la Yamaha con i rivali più arditi, Ducati, Aprilia e KTM, nonché con i team della Formula 1. Ha sottolineato l'importanza di rischiare nella progettazione delle moto, prendendo spunto dal mondo delle quattro ruote. Quartararo ha evidenziato come le altre case abbiano fatto passi da gigante nell'evoluzione delle loro moto, e come la Yamaha sia rimasta indietro. Il punto cruciale del test sarà una dimostrazione inconfutabile che la Yamaha è consapevole della propria situazione rispetto ai concorrenti e che è pronta ad agire di conseguenza. Il paragone con le evoluzioni di Ducati, KTM ed Aprilia è netto. Quartararo vuole vedere la Yamaha affrontare sfide simili, dimostrando di avere lo stesso coraggio. E non si tratta solo di parole. Fabio ha mostrato le carte, sottolineando la somiglianza tra la sua moto da campione del mondo 2021 e quella di Jorge Lorenzo del 2015, una similitudine sconcertante che sottolinea la necessità di cambiamento. Il giovane pilota ha espresso il desiderio di una Yamaha che abbracci l'innovazione e prenda spunti dalla Formula 1, dove i rischi intrapresi sono all'ordine del giorno. Quartararo ha enfatizzato come il mondo delle corse su due ruote debba cogliere l'opportunità di evolversi rapidamente, proprio come ha fatto la Formula 1. Amici, questa è una sfida epocale per la Yamaha e per l'intero mondo delle corse. Cosa ne pensate di questa audace mossa di Quartararo? Lasciateci i vostri commenti qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale The Sport News per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi di questa straordinaria vicenda. Stay tuned, amici sportivi! Grazie! Grazie!